Stasera facciamo un evento di inaugurazione per la nuova attività a Lorenzo Novara e sarà un sito internet dove saranno racchiusi tutti gli eventi della provincia di Novara. Facendo così almeno riusciamo magari a coinvolgere molto più i giovani ed avere tra virgolette un giro. Quindi alla fine non sempre nello stesso posto ma far girare un po' le persone e far conoscere gli eventi che la provincia di Novara. Elena Crespi. Fabio Gonanno. Noi siamo due fotografi e da un po' che fotografiamo in giro per Novara e tutti gli eventi li facciamo quasi noi. Quindi siamo qua per Alessio, Alessio tra l'altro è il nostro carissimo amico, quindi lo sopportiamo su questa nuova cosa che ha fatto. Esatto, ci occupiamo anche di eventi, io appunto si dà comunicazione, mi occupo di comunicazione, eventi, collaboro con Alessio sul lancio di questo sito, di questo grosso portale. Insomma siamo qua a supportarlo, a lavorare, a cercare di fare qualcosa in più per far crescere. Tra l'altro il video spot pubblicitario che Alessio ha fatto l'abbiamo realizzato noi come Borano Multimedia, girerà anche nelle sale cinematografiche del multisala di Benenzago, quindi guardatelo, è bellissimo. La regia è della nostra amica Elena Crespi e speriamo che ci divertiamo tutti questa sera e buona serata a tutti. www.altevenz.novara.it Ragazzi, buona serata a tutti e tante buone cose. Stasera faremo una sorta di intrattenimento dove ci saranno modelle che sfidano per il nuovo Cinema Paradiso, con la direzione di Charlie che organizza tutto, tutte queste cose. Poi ci sarà un gruppo musicale che si chiamano i Rumor che ci indirizzeranno con la loro musica indie rock. e poi faremo una sorta di ballo, un po' di intrattenimento per poi finire la serata con un DJ. Sono qua con il mio vlog Charlie Ghosts Fashion, un vlog novarese di appena un anno e quando Alessio mi ha chiesto di partecipare a questo evento ho detto di sì subito, perché Novara ha bisogno di una nuova realtà, di persone giovani che abbiano voglia di collaborare e di creare qualcosa di nuovo. Quindi chi meglio di me, che fa comunque da fashion blogger, può dare un piccolo contributo per questa grande causa. Pur essendo nato comunque da poco, stiamo lavorando molto con il team e questa è l'occasione giusta per farci conoscere anche a livello novarese. Quindi con Arts Events è nata una bella collaborazione, perché Novara non è solo eventi, solo ristorazione, ma anche tante altre cose, tutto ciò che ci può essere insomma di nuovo per i ragazzi giovani. Insomma cercare di aprire un po' di più la mente, perché pur essendo vicini a Milano rimaniamo sempre un po' chiusi noi novaresi, quindi c'è voglia di provare qualcosa di nuovo e di rischiare, di avere coraggio. Come organizzatrice della stilata all'interno di Arts Events abbiamo contattato il Nuovo Cinema Paradiso di Matteo Sorbellini, un'istituzione comunque a livello novarese per l'abbigliamento, perché appunto lui ha fama e sa come creare comunque un buon insieme di vestiti e di stile, quindi tutto molto glamour e si sposava perfettamente con la mia idea di stilata. Quindi anche il Nuovo Cinema Paradiso di Matteo Sorbellini partecipa a questo fantastico evento qui al Bustosia. Io e Arts Events ci siamo conosciuti, io e con Elena la parte grafica ho un sacco di tempo, la collaborazione è nata, a dire la verità, solo da due settimane, è stata una sorta di amore a prima vista, ci siamo trovati subito anche con Alessio, abbiamo collaborato benissimo e quindi quello che sarà in futuro sarà rendere le serate nuovaresi quanto più animate possibile, quindi ci saranno sicuramente anche delle parti moda, insomma collaboreremo con Alessio a serato contatto. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.